Oggi presidio dei lavoratori della team, sono diverse centinaia quelli che sono partiti da Via Verdi, hanno percorso il centro di Torino. La manifestazione è stata indetta da CGLCIS e UIL Comunicazione nell'ambito di una protesta nazionale contro la disdetta del contratto integrativo aziendale, una gestione che viene definita rovinosa. Io non corso, era lo slogan del corteo che è appunto partito da Via Verdi verso Piazza Palazzo di Città, davanti al Comune di Torino, altre iniziative in contemporanea, anche a Verbagna e Novara. Secondo i sindacati sono coinvolti in totale 4.000 lavoratori. L'azienda ha più volte ribadito alle organizzazioni sindacali la volontà dell'attuale management di salvaguardare il perimetro organizzativo e di gestire le eccedenze produttive attraverso processi di formazione e di qualificazione professionale, che porteranno a un più efficace impiego delle competenze dei singoli, consentendo l'internalizzazione di attività ad alto valore aggiunto e il potenziamento delle attività legate a quello che è il business aziendale. La trattativa sindacale è improntata ad ampia disponibilità a discutere, ispirata a una filosofia di recupero di produttività interna e una redistribuzione degli auspicabili risultati ottenuti. Ma i lavoratori sono preoccupati, sentiamo dalla voce di uno di loro quali sono le problematiche che li hanno portati a scendere in piazza. Oggi siete qui per dire non siamo un costo. Certo, non siamo non costo, siamo una risorsa, ma queste sono le parole ovvie scontate. Noi diciamo che un'azienda ad alto contenuto tecnologico, quale è Telecomitari, ha bisogno di fare investimenti, non più cuttagli. Noi veniamo da tre cicli di contratto di solidarietà che hanno decurtato lo stipendio di circa tre annualità negli ultimi tre anni. Pensiamo che tutto quello che potevamo fare a livello di contributo per rilanciare questa azienda lo abbiamo fatto. Quello che adesso ci aspettiamo da questa azienda è che si sieda a un tavolo con noi, metta da parte le ricette vecchie che non hanno dato alcun risultato come quello del taglio del costo del lavoro, ragioni con noi su organizzazione del lavoro, investimenti, rilancio produttivo industriale e che tenga in assoluto conto la tutela del perimetro occupazionale perché le prospettive continuando così non sono affatto delle migliori.